Parte da Palinuro ma è destinata sicuramente ad espandersi anche ad altre strutture ricettive presenti sul territorio cilentano, che vogliono aderire a questo progetto, nato da un'idea di un imprenditore della zona, Carmine Del Greco, titolare ed amministratore unico oltre che delle case vacanze Morfeo, del ristorante e bottega Villa Martina e del B&B Palinuro Holiday. C'è bisogno di un aiuto concreto ed immediato, ci confida Carmine Del Greco, per cui ho deciso, aggiunge, di voler donare parte del fitto di tutte le camere ed appartamenti delle mie strutture per tutto il mese di settembre alla Croce Rossa Italiana. Pubblicherò poi copia del bonifico effettuato. L'iniziativa ha già avuto un ottimo riscontro, dato il principale obiettivo, quello di aiutare le popolazioni colpite dal sisma. Ad una settimana dalla tragedia si contano ad oggi 291 povere vittime spezzate. Per chi vuole godersi una splendida settimana al mare a prezzi davvero low cost, 13 euro a persona. Contemporaneamente fare un gesto di reale solidarietà per aiutare chi sta vivendo un momento triste. Speriamo che altre strutture della zona aderiscono a questa iniziativa, aggiunge Giusy Gaudio, receptionist del Morfeo, perché insieme potremmo realmente fare un gesto di sollievo per i nostri concittadini in questo momento di enorme difficoltà. Per aderire al progetto basta prenotare una settimana della solidarietà in una delle strutture del gruppo Servizi Turistici Palinuro.